Una nuova sede del coordinamento regionale di Alta Agricoltura per venire in conto all'istanza del comparto agricolo dei cittadini dell'area vittoriese. Questa sera l'inaugurazione a Vittoria in Viala Marmara per i promotori sarà il luogo di progettazione e sviluppo di nuovi processi economici e produttivi a servizio del territorio, dell'impresa e delle comunità di cui il tessito sociale in quella Sicilia che non si arrende alla crisi ha sempre più bisogno. Per Alta Agricoltura serve quindi un progetto nuovo che tenga insieme mobilitazione sociale e capacità di fare anche rappresentanza sindacale con obiettivi coerenti e fuori dal consociativismo sfittico in cui sono ridotti i sindacati agricoli che fin qui hanno lasciato ridotto le aziende in crisi. Quindi agricoltore e cittadini impegnate a difendere l'agricoltura e a contestare gli effetti della crisi che non possono più delegare il proprio destino ad un sistema sindacale agricolo compromesso con la politica nella gestione dei finanziamenti, nel sostegno al potere di turno e nella spartizione di incarichi e gettoni di presenza. Appuntamento quindi questa sera con l'inaugurazione della nuova sede in Viala Marmara che sarà anche l'occasione della campagna di tesseramento 2018.